Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questa nuova video recensione. Come avevo già detto qualche video nell'ultima video recensione letteraria, in questo periodo, visto che ho esagerato con le letture pesanti e quant'altro, ho sentito il bisogno di rilassare un po' le cervella senza però smollare i libri. E proprio a questo riguardo ho deciso di investire su un libro che avevo ricevuto a Natale. Oggi infatti vi parlo di Jack e Jill, di James Patterson, e devo dire, è stata una lettura adatta per l'occasione. Volevo fare una pausa, volevo una lettura rilassante ma che mi sapesse intrattenere e per fortuna questo libro ha soddisfatto le mie esigenze. Allora, la trama in breve. Partiamo da questo presupposto, non è un romanzo a sé stante, non è il primo capitolo di una saga, è diciamo nel mezzo di un ciclo di romanzi scritti appunto da James Patterson che vede come protagonista il detective Alex Cross, un criminal profiling, non so se si pronuncia in maniera corretta, comunque quella sorta di detective che cerca di arrivare, di indagare sulla psicologia di un criminale, di un assassino, di un serial killer per scovarlo. Ebbene, questo Jack e Jill fa parte di questa serie di romanzi, non è il primo, non è l'ultimo, diciamo è tra quelli che stanno nel mezzo, non è il primo che leggo proprio in generale di James Patterson, non so se ne leggerò qualcun altro in futuro, non è proprio il genere che mi piace in tempi in cui ho bisogno proprio di leggere per piacere mio personale, perché io, devo dirlo ragazzi, io preferisco i romanzi gialli che mi spingono a riflettere, a ragionare per provare a vedere se riesco a indovinare anch'io il colpevole, mentre invece questo romanzo si iscrive nel genere thriller. C'è una sorta di mistero abbastanza giallo, però non è predominante, anzi è anche abbastanza povero, infatti io potevo già ipotizzare l'identità degli assassini già a metà romanzo. Però al di là del fatto di questo, al di là dei miei gusti personali, non me la sento di diciamo bocciarlo, ma come ho detto partiamo un attimo da un'esposizione in breve della trama. Allora, già vi ho detto chi è il protagonista, il detective Alex Cross, che si ritrova ad indagare su due tipi diversi di omicidi. Uno è per quanto riguarda una serie di omicidi che sta avvenendo nella Washington bene, con questa copia di assassini che si fanno chiamare Jack e Jill, come i famosi personaggi di una famosa poesifila strocca per l'infanzia inglese, che stanno commettendo i loro omicidi tra le persone più famose dell'altra società di Washington e puntano ad uccidere il presidente degli Stati Uniti. E dall'altra Alex Cross si ritrova anche ad indagare su, scusate, allergia sempre, ad indagare su una serie di efferati omicidi che vede come vittime dei poveri bambini nella zona, nel ghetto di Washington, dove lui vive. Piccolo accenno perché è un tema che secondo me forse è il tema portante di questo romanzo. Alex Cross è un personaggio, è un poliziotto di colore. Alla fine, volendo principalmente indagare sull'omicidio dei bambini, viene a forza spostato a indagare sui omicidi di Jack e Jill, perché ovviamente se bisogna scegliere tra fermare un omicida che sta uccidendo dei bambini neri in un ghetto e invece fermare una coppia di assassini che sta uccidendo persone ricche e famose a chi si dà la precedenza, ma ovviamente alle persone ricche e famose. Chi se ne frega dei bambini del ghetto? Non mi sangro mai di dirlo, ma la nostra razza è veramente una razza schifosa. Ok. Alla fine, indagando, indagando, il nostro Alex Cross riuscirà ad arrivare alla risoluzione di entrambi i delitti. Bene, una particolarità di questo libro, da un punto di vista stilistico, penso che lo si possa ricercare nella scrittura che è molto semplice. Come vi ho detto ragazzi, per me è stata una lettura rilassante perché ha saputo intrattenermi, perché essendo un thriller comunque sa tenere viva l'attenzione, ma dall'altra non è stata una lettura nemmeno tanto pesante, perché l'autore ha un modo di scrivere piuttosto semplice, il che potrebbe essere un male. Se cercate una lettura impegnata probabilmente questi generi di libri non fanno per voi, perché lo stile è molto semplice, è molto povero, la descrizione dei personaggi, la psicologia dei personaggi è molto minimale e piuttosto stereotipata, anzi parecchio stereotipata, ad esempio i cattivi sono cattivi e basta e non è perché abbiano proprio delle motivazioni serie, sono cattivi perché sono cattivi, i buoni sono buoni perché sono buoni, Alex Cross è il tipico personaggio del poliziotto, rude fuori ma tenero dentro eccetera eccetera ragazzi, è la fiera dei cliché dei polizieschi diciamo, è un tipo di lettura da leggere sotto l'ombrellone in spiaggia, sì va bene ho fatto un pessimo esempio perché dubito fortemente che questa estate andremo in spiaggia, almeno che qualcuno di voi non sia così masochista da voler rinchiudersi in quelle serre in plexiglass per mantenere le distanze, tutto il mio rispetto se volete arrivare a ciò per farvi una vacanza va bene ma chiudendo questa parentesi e in più i capitoli sono anche molto brevi, guardate il capitolo più lungo non supera le sei pagine e per lo più siamo nella media dei quattro, tre o due pagine di capitolo, quindi di per sé è una lettura e questo è un ottimo espediente perché ti permette anche di divorarti il libro in poco, ti sembra di leggere veramente poco e quindi a mano a mano te lo leggi in pochissimo tempo, te lo divori. Io quindi questo libro tecnicamente mi verrebbe da promuoverlo perché mi ha intrattenuto, mi ha rilassato, non è stato pesante, è stato il libro di cui avevo bisogno per questa occasione. L'avrei invece bocciato se avessi cercato un tipo di lettura più impegnato, soprattutto considerando un poco il tema di base che è molto importante e passerò subito a parlarne, che è stato trattato in maniera, non dico spicciola, però in maniera troppo breve, troppo semplificata, troppo raffazzonata vista anche la questione, perché di base come avrete già capito dal dilemma che ho esposto in cui Alex Cross si ritrova a dover lasciare in parte, in maniera ufficiosa, le sue indagini sul killer dei bambini del ghetto per concentrarsi interamente sugli omicidi nelle alte sfere di Washington ad opera di Jack e Jill, capiamo già che di fondo un tema portante è quello del razzismo che è molto presente, ma anche forse più del razzismo magari anche la questione delle litere, del concetto molto elitario che in America è molto presente, ma già dai licei ragazzi, ad esempio rimango sconvolto quando so che nei licei americani veramente esiste questa struttura piramidale in cui ci stanno le persone che stanno in cima e le persone che stanno in basso, ma davvero? È una cosa talmente aliena dalla mia concezione del mondo scolastico che veramente non ci vorrei, quasi pensavo fosse un'invenzione cinematografica, invece è verissima, è tragicamente vera, c'è proprio un problema di fondo che riguarda l'elitarismo, il classismo presente nella società americana, molto presente anche questo, come anche presente su un piano molto più politico, negli omicidi di Jack e Jill, ovvero il rapporto, l'eterna guerra tra repubblicani e democratici, tra l'America conservatrice suprematista bianca, diciamocelo, perché il tema del razzismo va sempre a finire, andiamo sempre a toccare il tema del razzismo, e da una parte la visione più democratica che è mal vista dai conservatori perché non ritengono che si debbano dare diritti a chi nella concezione suprematista e bianca non li merita, e da qui anche la guerra di Jack e Jill nei confronti del presidente, di questo fantomatico presidente degli Stati Uniti, che è un democratico e diciamo rischia di pestare i piedi a troppe persone che hanno troppi interessi a livello del conservatorismo, e si arriva anche a toccare gli altri omicidi irrisolti, come l'assassinio di Kennedy, di l'omicidio di Martin Luther King, e secondo me questo è pure un male di questo romanzo, perché mette alla fine tante di quelle robe sul fuoco e alla fine non riesce a districarsene, e secondo me lo stesso autore, un po' perché secondo me non voleva rischiare di creare un lavoro, un romanzo troppo politicamente scorretto nell'ambito della società americana, ma ha voluto evitare di esporsi troppo, ampliando, approfondendo di più la questione, e consideriamo che questo romanzo è stato scritto nel 1996, c'è addirittura una piccola comparsata all'inizio di Lady Diana, giusto per dirvelo, e considerando un poco quanto è successo di recente in America con l'omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto bianco, e sono passati quasi vent'anni da quando è stato scritto questo romanzo, è orribile e tragico di quanto la situazione in America sia cambiata veramente poco. Poi di certo la presidenza di Trump sta finendo di rovinare quel già poco di società americana sana che ancora rimaneva, ma non voglio sforare troppo nel politico. Quindi, in conclusione, un romanzo consigliato? Se cercate una lettura leggera, una lettura da ombrellone, qualcosa per rilassarvi e per intrattenervi, allora sì, promosso. Cercate una lettura impegnata? Non lo leggete assolutamente perché veramente, al di là di tutto questo, lo stile è troppo semplicistico, i personaggi sono piattissimi e stereotipati, e, diciamo, il tema di base non è stato approfondito meritatamente come avrebbe dovuto. Forse si doveva puntare a un altro target di romanzo perché questo tema venisse affrontato in maniera più esaustiva e, secondo me, dovevano essere in tempi un po' più recenti in cui si è un po' andato a soprassedere a questioni come il meglio non parlare di certe cose in quest'ambito, eccetera, eccetera. Bene, non penso di poter dire altro, alla fine c'era poco da dire. Io quindi la recensione la concludo qui. Spero che vi sia piaciuto e lasciatemi un like se così è stato, commentate e ditemi la vostra se conoscevate James Patterson, se avete letto qualche altro suo romanzo del ciclo delle indagini di Alex Cross, se avete letto qualche altro romanzo thriller di questo, diciamo, da intrattenimento, oppure ditemi voi quali sono le vostre letture per rilassarvi in momenti in cui volete un po' prendervi una pausa, non pausa dalla lettura. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram, sempre se volete, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao! Ciao!